vogliamo fare i muffin ma non abbiamo i birottini nessun problema basta un po di cartoforno ed un paio di forbici prendiamo delle strisce di cartoforno un po più larghe dello stampino ritagliamo dei quadrati mettiamo il quadrato nello stampino e lo schiacciamo per dare la forma ruotando bene ecco pronto il birottino facile veloce ed economico